Ciao Gianluca, la mia cassetta preferita è senza dubbio questa, è un mixtape che ho realizzato io nel 2018. Io ti sento già dire, ma scusa Maca, la tua cassetta preferita è una cassetta del 2018 e non una di quelle con cui sei cresciuto che magari ti facevano ascoltare i tuoi genitori? No, la mia cassetta preferita è proprio questa, perché è un mixtape che ho realizzato io per un'occasione molto speciale. Infatti è un mixtape che ho realizzato il giorno in cui è nata mia nipote e glielo poi ha regalato il giorno del suo battesimo. È una cassetta molto interessante perché è proprio molto pensata per l'occasione, infatti il lato A presenta dei brani un po' più energici sul rock, country leggero, indie folk, diciamo per il pomeriggio, mentre il lato B ha brani molto più morbidi come neoclassica, un po' come ambient per la notte. È una cassetta che mi piace ancora veramente tantissimo e anche se non è più mia perché appunto l'ho regalata, che è la cosa che si dovrebbe fare proprio con i mixtape, è sicuramente la mia cassettina preferita. Ciao Gianluca! Qual è la mia cassetta preferita? Qualcuno potrebbe pensare a qualcosa di audiofilo? No! Vi propongo tutto Sanremo 83 con Super Leo in copertina. Ebbene sì, avevo quattro anni, ho ancora questa cassetta e continuavo a ascoltarla come si suol dire a nastro, l'italiano di Toto Cotugno, volevo dirti di Donatella Milani, Chichi Chico Cocco di Pippo Franco, Vita Spericolata di Vasco Rossi, Vacanze Romane di Mattia Basar e via dicendo. Cose pazzesche, fantastiche, che mi hanno trascinato dentro questa passione e che non mi ha mai più mollato. Dovevo presentare questa cassetta. Ciao! Ciao Gianluca! Sono Dario, grazie per l'invito. La mia cassetta preferita, tra le tante, è questa, Iron Maiden Live After Death. Per tre motivi. Uno, per la meticolosità con cui ho ricreato il logo e con cui ho scritto tutti i titoli e le note di copertina. Due, perché l'ho ascoltata talmente tanto che al tatto qui la plastica è consumata. E tre, perché è registrata su una TDK D90, che era la mia cassetta preferita. Ciao Gianluca! Sono tante le musiche a sette a cui sono legato, sia originale che fatte in casa, ma se ne devo scegliere solo una, prendo sicuramente questa, Terremoto dei Litfiba. Non è stata la prima in assoluto che ho acquistato con i soldi della merenda, ma da qui parte il mio amore per i Litfiba e per il rock, italiano e non. Da qui la mia passione sempre crescente per la musica diventa una vera e propria ossessione, quella che mi salva dall'adolescenza e quindi salva anche la mia vita. Invece ragazzi, la mia musicassetta preferita è questa qui, anzi fa parte di un gruppo di musicassette preferite. Perché quando facevo l'università informatica a Camerino, avevo preso questa tradizione. Chiedevo a mio carissimo amico Emanuele, guarda mi fai una musicassetta delle tue, perché portano fortuna. E lui aveva prodotto queste musicassette, questa è un misto di Flyin' Away, di Smoke City e di Stardust, di Usmamò con tanto di copertina personalizzata, realizzata in mano. Io l'ho ascoltata nel tragitto da Torentino fino a Camerino e ho preso 30 e lode. Purtroppo ne hanno fatte pochine, infatti ne ho presi 3 o 4 oltre in tal lode. Ma questo per raccontarvi insieme ai contributi che mi hanno preceduto, quanta nostalgia, maledetta nostalgia, è legato a questo supporto. Un supporto che fa parte del passato, ma esistono delle aziende che la fanno rivivere alla grande. Sia andando a scovare nelle cantine dei vecchi nastri da rivendere, sia producendo dei nuovi nastri vergini, sia producendo degli album per dei musicisti prodotti adesso del 2022, sia producendo un Walkman nuovo di pacca. Questa azienda si chiama Dirt Tapes, andiamo a vedere cosa mi hanno spedito dentro un bello scatolone bianco. Ecco la scatola che mi è arrivata dai ragazzi di Dirt Tapes. Andiamo ad aprire, 1, 2, 3... Wow! Ma bella ragazzi! Bella questa maglietta con delle cose iconiche del mondo delle musiche a 7, ovvero che si può riavvolgere utilizzando una matita. Anche se ho un dubbio. Quindi ragazzi, che mi avete mandato? Una S. E dove la metto una S? Però un'idea ce l'ho. Grazie papà, è bellissima! Risolto questo, andiamo avanti. Mamma quanta roba! E che figata! Queste sono delle musiche a 7 vergini, ovvero non pre-registrate, con dei colori davvero wow! Arancione superfluo, leviamo, un verde superfluo, con l'interno scuro, sì. E qui invece andiamo sul classico, questa pure è una videocassetta vergine, però questa qui marchiata, quindi con tutte le scritte di Dirt Tape, con dentro il cartoncino a forma DJ dove scrivere tutto, vedete, Dirt Deplication. E' da 60 minuti. Un altro colore fluo, bello anche questo. E qui ragazzi andiamo su cose davvero più serie. Non riesco a leggere bene sul corsivo, ma questa invece è una produzione della Dirt Tapes, che poi mi andrò a ascoltare, poi vi andrò a raccontare. Questa si legge bene, necroide, bacchi da pietra. Anche questa è la produzione Dirt Tapes, la decima, ma dopo vi darò le mie considerazioni. Wow! Mark Romboy, spero di pronunciare berre, e Dortmühlen Philharmoniken, Reconstruction Debussy. Ok, anche questa è una produzione Dirt Tape, la nona. Questa sembra una cosa davvero particolare. Abbiamo preso tutto? No, wow! Questa è wow perché vedete la finitura, vedete l'effetto specchiato, vi sto accecando, è oro. La notte dei lunghi cortelli, morte a credito. Dirt Tapes, la produzione, se ho letto bene, la numero 12. Finite le cassettine, c'è una busta di quelle per fare la spesa, sempre con la musica e setta. Ragazzi, quanta roba mi avete mandato! Però la parte più ghiotta dovrebbe essere questa. Eh sì! Bustona, Dirt Tape, la musica in cassetta. Metto dentro la manina, ok. Dirt Tapes, qui con tutte le loro coordinate su Instagram, su Facebook, ovviamente sul web. Ciao Gianluca, grazie ragazzi. Qui ci sono le istruzioni. Ciao per usare il tape roller, perché sì, qui c'è lui, il tape roller. C'è anche un adessivo della Dirt Tape. C'è un cavetto USB di tipo, ah, quelli vecchi, il mini USB. Ci sono degli auricolari di qualità direi neanche così malvagia. Ragazzi, quanta roba mi avete mandato, però questi non so se li userò. C'è un cavetto mini jack maschio maschio, anche di quelli bellini, ma il pezzo forte è lui. Lo andiamo ad aprire insieme. Ed eccolo qui, c'è la pellicolina da togliere, che bello, che bello, che bello. Come? La prendo la pellicolina, la prendo da qui. Ed eccolo qui. Con questa sua apertura trasparente, open, si dovrebbe abbassare così, eccolo. E lo sportello si apre. Qui penso che dovrebbero andare inserite le batterie. Infatti adesso prendiamo le batterie e poi le andiamo a provare insieme. Che spettacolo, ragazzi, questa sfilza di cassettine qui davanti. Ma leviamo, purtroppo, dico purtroppo, quelle vergini, perché purtroppo, quante volte l'ho detto, purtroppo parecchie, i miei due registratori, le mie due piastre cassette, sono tutte KO. Sia quella della Teac, Ticch, sia un'altra, che non posso dirvi qual è, ma sono entrambi dal dottore, per essere messi a punto. Mentre mi sono goduto davvero questi album, godendomi poi la cosa bella di scoprire nuova musica. In particolare mi sono innamorato di Bachi da Pietra, Necroide, questo album qui. E guardate i dettagli. Custodia nero, l'interno, il guscio di musica setta è nero. Custodia dorata, l'abbiamo già visto, si vedono tantissimo le ditate. Chissà se riesco a vedermi io, eccomi qua dietro. E l'interno è dorato. Qui custodia nera, classica, ma dentro il guscio è bianco. Qui con questa grafia impossibile e medio-clementi notturno americano, trasparente, ma all'interno è di questo splendido arancione fluo. C'è un'esperienza che è bella, che nel soltanto l'ascolto della musica, la scoperta, vi dicevo, di nuovi artisti, nuovi musicisti, nuovi geni musicali, ma anche un oggetto che al tatto i colori, visivamente, insomma, è proprio appagante. Si va davvero a valorizzare il contenitore della musica. Ma quello che vogliamo vedere in particolare è questo, scusate il casino, oggettino qua, ovvero il tape roller, che sarebbe Walkman. Bellino, ovviamente con il marchio Dirt Tape in evidenza sul retro, sul davanti minimale con il simbolino qui, a me sembra un dente, mi vorrò sbagliare, e questi due colori, bianco e giallo fluo. Giallo fluo con questo cursore qui di fianco, che serve per aprire lo sportello, che si apre, vedete, a rivalta a sinistra. Andiamo a prendere Necroide, va messo con il nastro in alto, dove c'è, vedete, la testina, e si chiude. E il collegamento micro USB è davvero molto importante. Vedete, abbiamo l'uscita audio e il micro USB. Il micro USB, innanzitutto, è un alimentatore, quindi volendo possiamo evitare di comprare delle batterie stilo e utilizzarlo così. Il bano batterie stilo, ve lo ho fatto già vedere, è questo qui sotto, due stilo AA, e si va ad ascoltare come se fosse Walkman. Ma se vogliamo essere ecologisti, quindi ascoltare senza utilizzare delle batterie, usaggetta, certo ci sono ricaricabili, possiamo utilizzare l'USB. Ma non solo. Collogato tramite USB, il nostro PC lo riconoscerà come fosse una scheda audio, e sì, possiamo andare a digitalizzare la nostra musica. Dopodiché, vedete, c'è scritto, bello grande qui, Play, lo premiamo e lui va in riproduzione. Abbiamo in mente lo Stop, l'avanzamento veloce, e il riavvolgimento veloce. Ma la cosa bellissima è che noi abbiamo anche l'autoreverse. Guardate come stanno girando. Premo e sta girando dall'altra parte. E c'è giustamente anche il meccanismo da scegliere se sia un autoreverse continuo, quindi passerà A, B, A, B in continuo, oppure fare soltanto un passaggio A e B, e poi si firma. Davvero fantastico. Ma qui c'è un piccolo ma. E scusate, ho dimenticato che volendo, possiamo utilizzare un alimentatore da 3V da questa parte. Vi dicevo, primo ma. Se ne prendiamo una musicassetta nuova, con un ottimo nastro all'interno, tutto liscio. Ma se prendo la mia musicassetta, quella con cui ho creato le finte bobine, vi rimando il video qui sopra in cui l'ho costruito, è una musicassetta in cui c'è un attrito, perché le finte bobine stringono il nastro e creano un attrito. Che succede quando vanno a rivoluzione? Guardate. Perché si è fermato? Perché lui prova a girare da una parte, sente l'attrito, e quindi cambia e va dall'altro, e poi torna avanti e indietro. Si perde. Questo perché purtroppo il motore non ha tanta forza e quindi sente subito il fermarsi dovuto all'attrito e quindi va in autoreverse. Questo è un problema non tanto con questo Frankenstein che ho costruito io, ma se avete delle musicassette un po' vecchie, magari con l'effetto sticky tape, il nastro appiccicoso. Con una piastra a cassette buona come ho parlato io non c'è il minimo problema con una cassetta un po' pigra, perché viene forzata. Se invece il motore non spinge bene, effettivamente non riesce a mandarlo avanti. Altro problemino, vi faccio fare un ascolto di un piccolo brano. Ascoltate bene l'audio prima che parte la musica. Sì ragazzi, avrei voluto farvi ascoltare di più, ma ho dovuto arrestare il tutto per non sbattere con quello che è il copyright. Allora, questi nastri sono incisi molto bene, quindi è stata fatta bene quella duplicazione. Il problema è lui. Ha un rumore di elettronica evidente. Sì, evidente nei silenzi, prima che parte la musica. Una volta che parte la musica, passa in secondo piano. E tra l'altro, questa uscita cuffie, no ragazzi, non è affatto male. Io in realtà anche le lyric della Mezze Audio, anche di loro vi mando il video qui sopra, riesce a pilotarle. Quindi effettivamente si comporta bene. Beh, penso che è arrivato il momento di riassumervi un po' questa mia esperienza con la Dirt Tapes. Quindi, riassumendo, com'è stata questa mia esperienza con la Dirt Tape? Innanzitutto, cosa mi è piaciuto? Ho fatto anche il titolo Maledetta Nostalgia. La Dirt Tape, sì, produce delle musicassette vergini, e produce, distribuisce musica su musicassette, e distribuisce anche questo tape roller, ma la cosa per me più bella è che va a scavare nelle cantine e a tirare fuori delle chicche come magari un nastro del Sun Garden oppure un nastro di D'Andrea del 1974. Io sono nato effettivamente l'anno dopo, pensateci. Quindi va a giocare su questa nostalgia legata a questo supporto, che ve lo dico subito, è un supporto che ha tanti difetti, che è problematico. come ho detto, io ho due piastre e cassette entrambi a riparare, e non è un buon segno. Anche la loro piastra qualche problemino ce l'ha, ma quando prendi in mano una di questi nastri bellissimi, magari con questa custodia dorata, per noi che abbiamo vissuto questo supporto, c'è un effetto sospiro. Ma anche i giovani sono attratti, ho visto le mie bimbe, le guardavano con curiosità. È una grande, grande differenza. Infatti il secondo punto è questo, attenzione all'impatto visivo. Impatto visivo totalmente differente, se vogliamo, in contrapposizione con la musica liquida. La musica liquida, l'interazione alla fine è sempre il nostro smartphone col suo schermo. Quindi è sempre uguale, tutta uguale. Qui no, ogni custodia è differente, ogni parte esterna è differente, il cartoncino che tu apri e vai a guardare e qualche volta può essere davvero un qualcosa di enorme quando lo si apre e si va quindi a vederne il contenuto. Tutto questo ti dà un impatto visivo, un'esperienza totalmente differente. Mi piace comunque della Dirt Tape la qualità dei nastri. Purtroppo mi riferisco solo a quelli pre-registrati, perché quelli vergini, non avendo qualcosa da registrarci sopra non sono riuscito a metterli alla prova. Mi è piaciuto del Dirt Roller il fatto che abbia questa idea originale dell'USB sia per alimentarlo, quindi lo stiamo a impazzire con le batterie, ma anche per trasferire. Ma abbiamo avuto la fortuna di ascoltare un bellissimo concerto, l'abbiamo registrato su musicassetta o quella trasmissione radio di quando eravamo ragazzi, insomma, possiamo passarlo in PC banalmente, un MP3 per renderlo immortale. Mi piace il fatto che questo aggeggino sia auto-reverse, ragazzi, trovare una piastra auto-reverse che vi ho fatto vedere quella doppia, nuova, vi rimando il video qui sopra, lì non c'è, qui si c'è. E infine, mi piace il prezzo. In generale, tutti i prodotti Dirt Tape, ma anche questo costa 38,99. Come sempre, se volete informarvi da riacquistare, tutti i link qui in descrizione. Invece cos'è che non mi piace? Beh, due cose riferite proprio a questo qui. Lui, effettivamente, è un prodotto rimarchiato, si trova praticamente identico anche su eBay e l'elettronica diciamo non è proprio allo stato dell'arte. Si nota innanzitutto un rumore dell'elettronica, quindi se noi alziamo il volume, non vi ho detto, qui c'è la classica rotellina per alzare e abbassare il volume, se lo alziamo si sente bene il rumore anche quando non c'è neanche il nastro che sta passando ad altre testine. Il nastro all'inizio alla parte trasparente già lì sentiamo questo ronzio. Un altro ronzio quando arriva il nastro, poi sì, quando arriva la musica arriva il piacere, però prima un po' mi fastidisce. Mettere qui, ragazzi da te, qui ascoltatemi, un'elettronica migliore cambierebbe le cose. Può anche mettere un motore un po' più potente, con nastri difficili come la mia famosa finta cassetta con le bobine si aiuterebbe, ma aiuta anche con i nastri un po' più vecchietti che hanno bisogno di un motore che spinge bene. Ultima cosa, ma è un augurio, sì, appena potrò andrò a provare e vi aggiornerò magari su Instagram, seguitemi con aggioruca.vocci come vanno le cassette vergini, ma sono tutte del tipo ferro. Io il tipo cromo, il tipo metal, che erano le musicassette di qualità più alta, vorrei tanto riuscire a vederle. Ragazzi del tape, mi raccomando, mettetele in produzione. Beh ragazzi, spero che questa emozione di questo viaggio, di nostalgia vi sia piaciuto, se non vi è piaciuto lo so, se non vi è piaciuto vuol dire non avete mai avuto una di queste sotto il sedile della macchina. Ciao a tutti ragazzi, e al prossimo video.